Il Dio Favro, ciancato artista, nelle sue cavernose officine è il Dio che crea benessa, lavorando i metalli preziosi del cuore del vulcano, le gemellucide nascoste negli anfranti con il fuoco tra le rocce, ombre e trasparenze, temprate con la fiamma del metallo, la stessa fiamma con cui riesce a curare se stesso e le sue ferite, facendo della sua arte e maestria la sua medicina. In categoria Men Amateur Advanced, il nostro primo compagno è Luca Vadinelli. Grazie. 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 Grazie.